Perché inizia deve fare molta gavetta e la gavetta ad un lato serve perché comunque ti fortifica sia come persona che ti aiuta anche professionalmente a imparare sempre queste nuove. Ha lasciato la facoltà di medicina per seguire la propria passione. Una scelta vincente è quella di Flavia Garreffa, 30 anni perugina specializzata in cake design, l'arte di decorare i dolci con materiali commestibili. Quest'anno ha conquistato l'oro alla gara internazionale di pasticceria, sezione panettone. Ho dedicato questo premio alle donne lavoratrici, alle donne mamme. Io mi sento di rappresentare questa classe di persone perché comunque sono mamma, ho una famiglia e non è facile. Il panettone di Flavia è il simbolo di una rinascita. Nel 2020 è guarita da un tumore, poi ha affrontato la sofferenza economica dovuta alla crisi causata dalla pandemia. Alla fine è arrivato il riscatto sotto forma di decorazione natalizia, l'incipit di un nuovo capitolo. È un settore che ha talmente tante sfaccettature che mi piacerebbe aprire una scuola per trasmettere il mio sapere e la mia passione ad altri ragazzi, insomma ad altre persone che condividono la mia stessa passione.